Torna a Gela Samuele Mammano, torna con un concerto, domani un appuntamento importante con musica natalizia presso il Museo Archeologico Regionale di Gela. Sì esattamente, faremo un concerto alle ore 19.30, è preciso che l'ingresso sarà gratuito, il concerto avrà come titolo Christmas in Swing. La formazione sarà insieme a Rocco Mammano al pianoforte, alla batteria Ruben Mammano, domenica pomeriggio esordito al Tropicomed, al contrabbasso Iseia Mammano e ai synth e tastiere Alessandro Salsetta, il pianista con cui sono stato in Giappone. Proporremo un repertorio prettamente natalizio, tutto riarrangiato in chiave Swing e Jets e cercheremo di farci gli auguri tutti insieme, sperando in un anno pieno di soddisfazioni e soprattutto augurando a questa città una ripresa. Samuele, a proposito di questo 2015 che sta per concludersi, che bilancio è per te? Il bilancio è positivo, c'è stato un anno impegnativo, nello stesso tempo entusiasmante, abbiamo suonato tanto con tanti musicisti, tante collaborazioni e sono soddisfatto. L'anno nuovo ci saranno tante novità che non svelo, però posso dire che tornerò nuovamente all'estero e quindi vi farò sapere. La tua vita è sempre molto movimentata, intanto ti godi questi giorni qui a casa anche con la famiglia e la musica è sempre con te. Sì esattamente, questo non può imbancare, come si dice, Natale con i tuoi, quindi di conseguenza non suoneremo solo qui a Gela, con l'anno nuovo suoneremo anche a Vittoria, Mazzarino e Catania e basta. In bocca al lupo, allora rinnoviamo l'appuntamento per domani. Ok, ore 19.30 presso il Museo archeologico di Gela, Samuele Mammano Quindet, non mancate.